Attenzione! Attenzione! In questo programma vengono utilizzate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o a persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Cambia prospettiva Raggiungere la tua destinazione BAPPANKULO! Suzuki Non lasciarti sfuggire in questa occasione perché un Black Friday così lo trovi solo qui. Expert, gli esperti sempre con voi. BAPPANKULO! 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 BAPPANKURO! BAPPANKULO! BAPPANKULO! Allora! Allora! Ho capito! Dai, super! Amariggio assolato Appella Premi E per addobbare la casa e la tavola a festa Allora vengo con te Nuovo Bianco 2 Mille metri quadri di qualità tutta italiana Con intimo abbigliamento biancheria per la casa E le migliori firme a prezzi strepitosi Santino e alle arcate di tavolo Routine Skip Grazie a tutti 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 Grazie a tutti